La Chiesa che per quattro anni ha visto le porte chiuse dopo i lavori e il celebrare insieme l'Eucaristia ci ricorda che nei lavori abbiamo iniziato con voi con le speranze e le paure per tutto il parato che la Chiesa in cui si trovava. Il secondo grazie è a nome anche di Giuseppe, Luca e Mariano per questi nostri venti anni che abbiamo ricordato insieme nell'Eucaristia. 20 anni di imperfezione pure perché non siamo stati sempre bravi nel senso che abbiamo cercato di vivere il nostro sacerdozio secondo il pensiero di Dio e riconosciamo anche le nostre cadute, le nostre infedeltà. Per questo una volta chiediamo alle comunità di pregare per noi perché quando muore un prete qualcuno dice vabbè non c'è bisogno delle messe noi diceva invece io dico no, bisogna pregare soprattutto per i sacerdoti sia dei fundi che vi. Quindi noi stiamo qui per dire il nostro grazie a Dio per questi dieci anni e grazie perché insieme abbiamo vissuto questa esperienza attraverso l'Eucaristia. Noi possiamo soltanto pregare gli uni per gli altri e chiedere al Signore ancora una volta la grazia di essere fedeli a quel sì lo voglio detto tante volte il giorno dell'ordinazione. E come dice San Paolino in una lettera ad Agustino quando celebra l'Eucaristia ricordati di me perché io mi ricorderò di te all'altare del Signore. Ma in questo momento trovato qui al Collegio non posso non citare un nome non posso non citare un nome del quale nome sono qui nelle pareti di questa chiesa Don Alfredo. Don Alfredo è la promessa e su quella promessa c'è l'eredità Don Agnello è l'eredità ma quell'eredità che porta avanti una promessa già consegnata da un altro confraterno e poi al fatto con fra i sacerdoti il mio augurio sono quattro bravi preti ma non per complimenti sono quattro bravi preti impegnati di oggi si chiama il senso della chiesa hanno il senso anche del Vangelo salvo stare in mezzo ai laici questi quattro preti che possono risvegliare domani e oggi la bellezza di essi e siete che bello e stupendo ma si seguite il sacerdozio in pienezza senza cadere nelle mediocrità o nei compromessi il compromesso è la malattia tedibile nella vita dei preti soprattutto auguriamo a voi qua il signore sia con voi finate il capo per la presenza